Adesso vediamo appunto quello che abbiamo appena detto, cioè allungando il tubo il microfono registra un'ampiezza variabile, se uno allunga o stringe, un'ampiezza variabile perché in base all'allungamento, che può essere più o meno grande l'allungamento del tubo, le due onde vanno in interferenza costruttiva oppure distruttiva. Per esempio qui stanno in interferenza distruttiva, qui in interferenza costruttiva, distruttiva, costruttiva e così via. Adesso prendiamo un po' di misure, cominciamo per esempio da qui e cerchiamo la prima interferenza costruttiva, che più o meno è questa qua. Questa è la prima interferenza costruttiva e allora noi...